Ehm, signor nonobrecco, signore, il capito ha promesso le nostre anime a satanasso e dobbiamo portargli i contratti di tutti quelli che gli devono l'anima entro mezzanotte, altrimenti lui ci ucciderà. Ha qualche consiglio? Oh, 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 tutta colpa dei cellulari, ma prendete questa! È una pozione magica! E vi darà poteri magici! Sapete per cosa? Per combattere i demoni! Ehm, nonobrecco, come fa lei a conoscere roba come i poteri magici e i demoni? Oh, oh, beh, penso sia una cosa che riguarda l'indocchiare, ma ora è meglio si andate, questo nonobrecco ha bisogno di un po' di riposo! Wow, ammetto che questi poteri sono molto fichi, ma non posso riuscire a sparare a qualcuno! Oh, vero Caped? Perbacco! Signor Lucifero, le tazze sono dirette al casino, in questo momento! Cosa? No, aspetta, non è passata un'ora! Ehm, che gli sono bastati circa due minuti per sconfiggere tutti i boss! Ma è impossibile! Sono sicuro che tutti loro siano ossiduri! Fa come se potessero prevedere, di conseguenza, evitare ogni singolo attacco! Come se potessero... Tornare indietro e riprovare ogni scontro! Ma non è valido! Sono arrivati! Me ne occuperò io per voi, non lasciate per nessun motivo il trono! Statevene qua! Ci rivediamo, ragazzi! Bentornati al casino! Dovrei combattere contro voi due, ma sinceramente non ho voglia di sporcarmi le mani! Quindi tirate il dado! E affrontate la mia fierissima legione! In realtà li avremmo già sconfitti, signore dado! Signore! Non i miei bambini! Tutti quanti! Beh, a quanto pare, ve la dovrete vedere col più potente! Per santo manico! A quanto pare, i miei ospiti sono finalmente tornati! Spero abbiate i miei contratti o le vostre anime saranno mie! Si risparmi il discorso, è la ventunesima volta che ce lo dice! Anzi, con questa vuono 22! Dici sul serio? Beh, potreste provarci cento volte! Ma le vostre anime saranno mie! Anche questo l'ha detto 22 volte! A quanto pare, i miei ospiti sono finalmente tornati! No, Caped! Non devi dargli i contratti! Si, Caped! Dammi i contratti! Quelli contenevano le anime di tutti quelli che avete sconfitto! Sei pazzo! Oh no! Per santo manico, Caped! L'hai polverizzato! Beh, almeno adesso possiamo tornare a fare la nostra vita tranquilla e spensierata con nonno bricco! Caped! Caped! Grazie a tutti.